Il quartiere fermano di Lido Trearchi torna ad essere teatro di un fatto di crona che è accaduto ieri pomeriggio quando erano circa le 18 ai danni di un cittadino di origini pakistane che è stato aggredito e derubato in via Bachelet. Alcuni ragazzi con un cane di grossa taglia hanno avvicinato l'uomo ed è scattata l'aggressione fino a quando non è caduto a terra per le percosse che lo hanno colpito dappertutto al volto e al corpo fino ad essere azzannato ad una gamba dal cane. A quel punto gli aggressori hanno sfilato le loro vittima del danaro dalle tasche, circa 50 euro, e si sono dati alla fuga. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio che lo hanno trasportato al pronto soccorso del Murri di Fermo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno indagando per ricostruire quanto è accaduto e dare un volto e un nome agli aggressori.